Noi siamo piccoli imprenditori, cerchiamo di dare il nostro meglio, però poi io sono un po' scoraggiata oggi, a differenza dell'altra volta, perché in questo mese abbiamo avuto due avvenimenti catastrofici, decreto a Mazzataranto, abbiamo avuto la soppressione della sovrintendenza, ma quanti di noi sanno che la sovrintendenza tarantina ha circa 130 anni, che fu fondata dall'archeologo Luigi Viola? Non lo sanno, quindi alla fine erano 300 i manifestanti, ma se tutti lo sapessero forse dovevamo essere in migliaia, perché come cavolo può essere che il tarantino rimane a casa a non manifestare per questo grave torto che ci viene fatto?